Stiamo già leggendo da parecchie puntate un libro importantissimo di storia medievale che si intitola L'autunno del Medioevo, un libro scritto dall'orandese Johan Huizinga, un libro che è fuori copyright e che quindi possiamo leggere direttamente in italiano e possiamo commentare anche passo dopo passo, come di solito facciamo all'interno della nostra rubrica Book Club Storico Filosofico. Siamo già alla tredicesima puntata, corrisponde al capitolo 12, oggi andiamo avanti perché leggeremo metà di questo capitolo 12 che è particolarmente intenso, lungo e importante ed è un capitolo dedicato al pensiero religioso. Andiamo a cominciare. Un sosso di caffè nella solita tazza con la scritta. Andiamo a cominciare. Che c'è sempre? Come ci sono sempre anche Topolino, Tostai, Batman e Andrea, il mostro peloso, il cuscino, quest'altro mostro qui dietro e ci sono sempre anche io ovviamente. Mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegno nel liceo scientifico di Rovigo e da due anni e mezzo su questo canale realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica che ripercorrono grosso modo il programma che si fa alle superiori. Ma di tanto in tanto mi concedo anche qualche approfondimento tra i quali ci sono anche, da questi approfondimenti, a volte delle letture integrali di opere. Abbiamo letto alcuni classici della filosofia, abbiamo letto l'Apologia di Socrate, abbiamo letto il Così parlo Zaratusta di Nietzsche, Il Principe di Machiavelli e altre opere di questo genere, abbiamo letto anche qualche opera di narrativa con retrogusto filosofico come Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, ma da un po' stiamo leggendo anche un'opera storica, ovviamente devono essere opere fuori copyright in modo che si possa leggere senza incappare in violazioni di alcun tipo. Questa opera fuori copyright è L'autunno del Medioevo di Johan Wissinger. In realtà è fuori copyright la versione originale, io la sto ritradducendo più o meno come riesco e però la leggiamo, quindi è libera da costrizioni. La leggiamo e come sempre la commentiamo perché la struttura è questa che seguiamo, leggo un capitolo o una parte del capitolo, insomma un bel pezzo di pagine diciamo così, le leggo di continuo di fila in modo da farvi anche assaporare un po' la prosa un po' ricercata di Wissinger e poi metto in pausa la lettura e spiego in un capitolo a parte già ben evidenziato, li trovate anche in descrizione a questo video, spiego quello che abbiamo letto, tento di farvi notare le cose più interessanti e di chiarire alcuni punti magari un po' più oscuri e poi riprendo a leggere e poi rispiego e così andando. Ripeto, in descrizione se guardate sono già segnate in maniera molto chiara quali sono le parti di lettura e quali sono le parti invece di commento. Detto questo ricominciamo dal capitolo 12 appunto, un capitolo che parla del pensiero religioso e delle sue immagini e che è però come vi dicevo prima un capitolo molto lungo quindi in questa puntata di oggi vedremo solo metà di questo capitolo diviso poi in parti e mentre la seconda metà la vedremo in una prossima e veloce puntata che faremo a breve. Quindi ricominciamo dall'inizio del capitolo 12. Capitolo 12. Il pensiero religioso che si cristallizza in immagini. Verso la fine del medioevo due fattori dominano la vita religiosa. L'estrema saturazione dell'atmosfera religiosa e una spiccata tendenza del pensiero a incarnarsi in immagini. La vita individuale e sociale in tutte le loro manifestazioni è intrisa delle concezioni della fede. Non c'è un oggetto un'azione per quanto banale che non sia costantemente correlata a Cristo o alla salvezza. Tutto il pensiero tende all'interpretazione religiosa delle singole cose. C'è un enorme dispiegarci della religione nella vita quotidiana. Questa veglia spirituale tuttavia si traduce in un pericoloso stato di tensione poiché i sentimenti trascendentali presupposti sono talvolta dormienti e ogni volta che questo è il caso tutto ciò che è inteso a stimolare la coscienza spirituale è ridotto a spaventose volgarità banali, a una sorprendente mondanità in sembianze ultraterrene. Solo i santi sono capaci di un atteggiamento mentale in cui le facoltà trascendentali non sono mai sospese. Lo spirito del medioevo ancora plastico e ingenuo anela a concretizzare ogni concezione. Ogni pensiero cerca espressione in una immagine ma in questa immagine si solidifica e si irrigidisce. Con questa tendenza all'incarnazione in forme visibili tutti i concetti sacri sono costantemente esposti al pericolo di irrigidirsi in un mero esteriorismo. Infatti assumendo una forma figurativa definita il pensiero perde le sue qualità eteree e vaghe e il sentimento pio tende a risolversi nell'immagine. Anche nel caso di un sublime mistico come Enrico Suso la brava di santificare ogni azione della vita quotidiana rasenta ai nostri occhi il ridicolo. Egli è sublime quando secondo gli usi dell'amor profano festeggia il capodanno e il primo maggio offrendo una corona e un canto alla sua promessa sposa Eterna Sapienza ovvero quando per rispetto verso la Santa Vergine rende omaggio a tutte le donne e cammina nel fango per passare un mendicante. Ma cosa dobbiamo pensare di ciò che segue? A tavola Suso mangia tre quarti di mela nel nome della Trinità e il restante quarto in memoria dell'amore con cui la madre celeste diede da mangiare una mela al suo tenero figlio Gesù. E per questo mangia l'ultimo quarto con la sbucciatura come i ragazzini non sbucciano le mele. Dopo Natale non lo mangia perché allora il bambino Gesù era troppo giovane per mangiare le mele. Beve in cinque sorsate a causa delle cinque piaghe del Signore ma mentre il sangue e l'acqua sgorgavano dal costato di Cristo beve due volte l'ultima sorsata. Questo infatti sta spingendo all'estremo la santificazione della vita. In quanto riguarda la pietà individuale questa tendenza ad applicare le concezioni religiose a tutte le cose e in ogni tempo è una fonte profonda di vita santa. In quanto fenomeno culturale questa stessa tendenza nasconde però gravi pericoli. La religione che penetra in tutte le relazioni della vita significa anche una costante fusione delle sfere del pensiero sacro e del pensiero profano. Le cose sante diventeranno troppo comuni per essere sentite profondamente. La continua crescita delle osservanze, delle immagini, delle interpretazioni religiose significa anche un aumento quantitativo di cui i teologi seri si allarmarono temendo che la qualità si deteriorasse proporzionalmente. Il monito che troviamo ricorrente in tutti gli scritti riformisti del tempo dello scisma e dei concili è la Chiesa è sovraccarica. Piedagli nel condannare le novità che venivano incessantemente introdotte nella liturgia e nell'ambito del credo si preoccupa meno della pietà del loro carattere che del costante aumento stesso. I segni della sempre pronta grazia divina si sono moltiplicati all'infinito. Accanto ai sacramenti sorsero una moltitudine di benedizioni speciali. Oltre alle reliquie troviamo amuleti. La bizzarra galleria dei santi si fece sempre più numerosa e variegata. Per quanto enfaticamente i teologi insistessero sulla differenza tra sacramenti e sacramentalia, la gente li confondeva comunque. Cherson racconta di aver incontrato ad Auxerre un uomo che sosteneva che il giorno degli sciocchi fosse sacro come il giorno della concezione della Vergine. Nicolas de Cremange ha scritto un trattato, The Novus Festivatibus Istituendis, in cui denunciava il carattere apocrifo di alcune di queste nuove istituzioni. Pied Ayi, nel De Reformazione, deplora il numero sempre crescente di chiese, di feste, di santi. Protesta contro la moltitudine di immagini e dipinti, la prolissità del servizio, contro l'introduzione di nuovi inni e preghiere, contro l'aumento delle veglie e dei digiuni. Insomma, quello che l'allarma è il male del superfluo. Ci sono troppi ordini religiosi, dice Ayi, e questo porta alla diversità degli usi, all'esclusività e alla rivalità, all'orgoglio e alla vanità. In particolare, desiderava imporre restrizioni agli ordini mendicanti, di cui metteva in dubbio l'utilità sociale. Essi vivono a detrimento dei detenuti, dei lebrosari e degli ospedali, e di altre persone veramente povere e miserabili, che hanno veramente il diritto di mendicare. I venditori di indulgenze siano banditi dalla Chiesa, perché sporcano con le loro menzogne e ridicolizzano. Si costituiscono conventi da tutte le parti, ma mancano fondi sufficienti. Dove deve portare tutto questo? Pierre Dayi non mette in discussione il carattere santo e pio di tutte queste pratiche in se stesse. Deplora solo la loro infinita moltiplicazione. Vede la Chiesa appesantita dal carico dei particolari. Le usanze religiose tenevano a moltiplicarsi in modo quasi meccanico. Fu istituito un ufficio speciale per ogni dettaglio del culto della Vergine Maria. Vi erano messe particolari, poi soppresse dalla Chiesa, in onore della pietà di Maria, dei suoi sette dolori, di tutte le sue feste messe insieme, delle sue sorelle, le altre due Marie, dell'Arcangelo Gabriele, di tutti i santi della genealogia di nostro Signore. Un curioso esempio di questo accrescimento spontaneo dell'uso religioso si trova nell'osservazione settimanale del giorno degli innocenti. Il 28 dicembre, giorno della strage di Betlemme, fu considerato nefasto. Questa credenza fu l'origine di un'usanza, largamente diffusa nel corso del Quattrocento, di considerare come giorno scritto in nero per tutto l'anno il giorno della settimana in cui careva il precedente giorno degli innocenti. Di conseguenza compito e questo giorno fu chiamato giorno degli innocenti, come la festa stessa. Luigi XI osservò scrupolosamente questo uso. L'incoronazione di Edoardo IV d'Inghilterra si ripetè essendo avvenuto di domenica perché anche il 28 dicembre dell'anno precedente era stato di domenica. Renato di Lorena dovette rinunciare al suo piano di combattere una battaglia 17 ottobre 1476 poiché i suoi lanzichenecchi si rifiutarono di incontrare il nemico nel giorno degli innocenti. Questa credenza di cui troviamo tracce apparsi in Inghilterra fino al XVIII secolo suscitò un trattato di Gerson contro la superstizione in generale. La sua mente penetrante aveva compreso in parte il pericolo con cui queste escrescenze del credo minacciavano la purezza del pensiero religioso. Era consapevole della loro base psicologica. Secondo lui queste credenze procedono ex sola hominum fantasiazione et melancolica immagine. È un disturbo dell'immaginazione causato da qualche lesione del cervello che a sua volta è dovuta a illusioni diaboliche. La chiesa era costantemente in guardia affinché la verità dogmatica non venisse confusa con questa massa di facili credenze e l'esuberanza della fantasia popolare non avvilisse Dio. Ma se tu opporsi a questa forte esigenza di dare una forma concreta a tutte le emozioni che accompagnano il pensiero religioso? Era una tendenza irresistibile a ridurre l'infinito al finito, a disintegrare ogni mistero. I più alti misteri del credo si ricoprono di una crosta di pietà superficiale. Anche la profonda fede nell'eucaristia si espanne in credenze infantili, per esempio che non si può diventare ciechi o avere un colpo di epoplessia il giorno in cui si è ascoltata la messa, o che non si invecchia durante il tempo trascorso a frequentare la messa. Mentre lei stessa offre tanto cibo alla fantasia popolare, la chiesa non può pretendere di mantenere questa immaginazione entro i limiti di una sana e vigorosa pietà. A questo proposito il caso di Gerson è caratteristico. Compose un trattato, contra vanam curiositatem, con cui intende lo spirito di ricerca che desidera scrutare i segreti della natura. Ma mente protesta contro di esso e egli stesso si rende colpevole di una curiosità che a noi sembra fuori luogo e deplorevole. Gerson fu il grande promotore dell'adorazione di San Giuseppe. La sua venerazione per questo santo lo rese desideroso di conoscere tutto ciò che lo riguardava. Sbrogliò tutti i particolari della vita coniugale di Giuseppe, la sua continenza, la sua età, il modo in cui seppe della gravidanza della vergine. Si indignò per la caricatura di un Giuseppe faticoso e ridicolo che le arti erano inclini a fare. In un altro passo, Gerson si concede una speculazione sulla costituzione corporea di San Giovanni Battista. Se la vergine avesse preso parte attiva al concepimento soprannaturale, o ancora se il corpo di Cristo si fosse decomposto se non fosse stato per la resurrezione, erano quelle che il popolare predicatore Olivier Maillat chiamava belle questioni teologiche da discutere davanti ai revisori. La commissione di speculazioni teologiche ed embriologiche, a cui diede luogo la controversia sull'immacolata concezione della vergine, sconvolse così poco gli animi di quel periodo che i gravi teologi non si fecero scrupoli a trattare l'argomento dal pulpito. Questa familiarità con le cose sacre è, da una parte, segno di una fede profonda e ingenua, dall'altro comporta l'irriverenza ogni volta che viene meno il contatto mentale con l'infinito. La curiosità, per quanto ingenua, porta alla profanazione. Nel Quattrocento si conservavano statuette della vergine, il cui corpo si apriva e mostrava la trinità all'interno. L'inventario del tesorio dei duchi di Borgogna ne fa menzione di uno intarsiato in oro e gemme. Gerson ne vide uno nel monastero carmelitano di Parigi. Ne incolpò i confratelli, non però perché un'immagine così grossolana del miracolo lo avesse scioccato in quanto irriverente, ma a causa dell'eresia di rappresentare la trinità come il frutto di Maria. Tutta la vita era così satura di religione che il popolo correva il pericolo costante di perdere di vista la distinzione tra le cose spirituali e le cose temporali. Se da un lato tutti i dettagli della vita ordinaria possono essere elevati a un livello sacro, dall'alto tutto ciò che è santo sprofonda nel luogo comune per il fatto di fondersi con la vita quotidiana. Nel Medioevo la demarcazione tra la sfera del pensiero religioso e quella delle preoccupazioni mondane fu quasi cancellata. A volte accadeva che le indulgenze figurassero tra i premi di lotteria. Quando un principe faceva un ingresso solenne, gli altari e gli angoli dell'estrarre carichi dei preziosi reliquiari della città e serviti dai prelati si potevano vedere alternarsi a spettacoli muti di divinità pagane o allegorie comiche. Nulla è più caratteristico a questo riguardo del fatto che non c'è quasi alcuna differenza tra il carattere musicale delle melodie profane e quelle sacre. Fino alla fine del XVI secolo le melodie profane potevano essere usate indiscriminatamente per un uso sacro e per un uso profano. È noto che Guillaume Dauphée e altri abbiano composto messe sul tema delle canzoni d'amore come «Tan je me déduit, se la fa ai palit, l'homme armé». C'era un continuo scambio di termini religiosi e profani. Nessuno si è sentito offeso nell'ascoltare il giorno del giudizio paragonato a un regolamento di conti, come nei versi precedentemente scritti sopra la porta dell'ufficio dei conti di Lille. Allora egli aprirà al suono della tromba la sua generale e grande camera dei conti. Un torneo invece si chiama «Desarm grandisme pardon», la grande indulgenza conferita dalle armi, come se fosse un pellegrinaggio. Per caso le parole «misterium» e «ministerium» si sono fugi in francese nella parola «mister». E questa omonimia deve aver contribuito a cancellare il vero senso della parola «mistero» nel linguaggio quotidiano, perché anche le cose più banali potrebbero essere chiamate «misteri». Mentre il simbolismo religioso rappresentava le realtà della natura e della storia come simboli o emblemi di salvezza, d'altra parte le metafore religiose venivano prese in prestito per esprimere sentimenti profani. Le persone del Medioevo, in soggezione nei confronti della regalità, non si tirano indietro dall'usare il linguaggio dell'adorazione per lodare i principi. Nel processo per l'assassinio di Luigi d'Orlean, l'avvocato della difesa, fa dire all'ombra del duca, al figlio, guarda le mie ferite e osserva che cinque di esse sono particolarmente crudeli e mortali. Il vescovo di Chalant, Jean Germain, nel suo Liber De Virtutibus Philippi Ducis Burgundie, a sua volta non si fa scrupolo di paragonare la vittima di Montero all'agnello. L'imperatore Federico III, quando manda il figlio Massimiliano nei Paesi Bassi a sposare Maria di Borgogna, Viene paragonato da Molinè a Dio Padre. Lo stesso autore fa dire agli abitanti di Bruxelles, quando piansero di tenerezza vedendo l'imperatore entrare nella loro città con Massimiliano e Filippo il Bello, ecco l'immagine della Trinità, del padre, del figlio e dello Spirito Santo. Offre una corona di fiori a Maria di Borgogna, degna immagine della Madonna. C'è clus la virginité. Non che io voglia divinizzare i principi, aggiunge Molinè. Sebbene possiamo considerare tali formule di adulazione e frasi vuote, essi mostrano non di meno il depreciamento dell'immagine sacra derivante dal suo uso trito. Difficilmente si può biasimare un poeta di corte quando lo stesso Gerson attribuisce agli ascoltatori reali delle sue prediche angeli custodi di rango superiore nella gerarchia celeste rispetto a quelli degli altri uomini. Ecco questa prima parte del capitolo 11 che è anche abbastanza corposa come avete visto abbiamo letto a lungo, anche insomma una prosa un po' complicata quella di Huizinga, è un capitolo dedicato proprio alle immagini religiose, ma le immagini religiose che sono, dice Huizinga inevitabili, il pensiero medievale che si lanciava anche appunto in grandi pensieri astratti altissimi in tema religioso, andava a parlare di Dio, dell'infinito, di tutto e di più. Poi aveva sempre bisogno anche di concretizzare questi discorsi e di concretizzarli in immagini, ma questo costituiva un obbligo ma anche un rischio. Perché? Un obbligo perché non era in grado, il pensiero medievale, di ragionare sempre in austratto, aveva proprio bisogno di rendere concrete le cose, ma un rischio perché a furia di rendere concrete le cose le si banalizzava. In fondo, certe questioni metafisiche stanno bene solo nel pensiero, perché quando le concretizzi troppo, quando le materializzi troppo, le banalizzi anche, o le rendi dei luoghi comuni, o le rendi qualcosa di fin troppo terreno, quando l'obiettivo della metafisica, della teologia, sarebbe di parlare di cose ultraterrene, ben al di là della nostra materialità. E questo rischio di un abbassamento della sfera religiosa si vede in molti esempi. Qua vi dice ad esempio questa moda un po' strana, un po' ridicola anche a un certo punto, di contare ogni cosa che si fa come un riferimento magari numerologico alla passione di Cristo, a cose di questo genere. Cita Enrico Suso che mangiava la mela, dividendo in parti che ricordassero la trinità, che ricordassero l'amore per Gesù. Insomma, ogni cosa che ci faceva doveva essere un simbolo della trinità, della passione di questo e di quello, fino a diventare appunto a sfiorare il ridicolo, diciamo, bere, bisognava bere l'acqua un certo cinque volte a causa delle cinque piaghe, eccetera, eccetera, eccetera. Segno appunto di un attaccamento alla sfera religiosa che però si banalizza quasi. Questo si vede anche nella proliferazione, dice Huizinga, di amuleti, feste, santi, rituali. La Chiesa diventa sovraccarica, dice ad un certo punto, ed è una impressione sentita anche dai contemporanei, dagli uomini di questo fine medioevo, un appesantissima della Chiesa con riti sempre maggiori, sempre più esagerati, parole, usanze, tradizioni che vanno ad aggiungersi a una cospicua già quantità di riti. E dice giustamente Huizinga quando i riformatori, cioè Lutero e gli altri, sarebbero poi arrivati, avrebbero avuto gioco facile ad attaccare la Chiesa dicendo che era esagerata, che era pesante, magniloquente, esagerata. Perché lo era davvero? Perché c'era una serie di cose superflue nel servizio, nel rito, anche poi nel modo di vestire dei preti, nello sfarzo della Chiesa, ma non era solo lo sfarzo della Chiesa, era tutto, perfino il modo di pregare che era diventato pesante, no? E qui porta molti esempi da questo punto di vista. L'esempio forse principale è quello del giorno degli innocenti, perché poi questa proliferare di tradizioni, culti feriti, porta superstizioni. Il giorno degli innocenti ne è proprio un esempio. Il giorno degli innocenti, non so se avete capito il meccanismo, si guardava che giorno cadeva il 28 dicembre, perché secondo la tradizione era il giorno in cui Erode aveva ordinato la strage degli infanti a Betlemme. Si guardava che giorno della settimana cadeva, se cadeva ad esempio di domenica, per tutto l'anno successivo, fino al 28 dicembre dell'anno successivo, ogni volta che era domenica, quello era un giorno nefasto. Quindi ogni settimana, il giorno che capitava nello stesso giorno del giorno degli innocenti, del massacro degli innocenti, era un giorno in cui non si potevano fare giuramenti, in cui non si poteva essere incoronati e così via. Un giorno che portava sfortuna, potremmo dire. Ed è chiaro che è superstizione come dire un venerdì 17 o venerdì 13, no? Solo che si prendeva, ad esempio, questo giorno degli innocenti. Se capitava di mercoledì, tutti i mercoledì. Se capitava di giovedì, tutti i giovedì dell'anno erano, in un certo senso, maledetti. E questa superstizione ne c'era in Francia, ma c'era anche in Inghilterra, c'era anche in altre zone della Germania. Insomma, era piuttosto diffusa, rimane diffusa fino quasi al diciottesimo secolo addirittura. Segno di un cadere in questa superstizione, in questi eccessi che sono però tipici di questa fase storica, anche in un certo senso. Eccessi che poi sono anche morbosi, perché come si esagera con i riti, come si esagera con le superstizioni, si esagera perfino nel culto dei santi. E qui porta degli esempi. Ad esempio Gerson, che è appassionato di San Giuseppe, che lo vuole difendere da tutte le rappresentazioni, che parla del suo corpo, di come era fatto. Oppure ci sono questi altri che parlano della Madonna e vogliono anche descrivere come si è, come ha concepito, ma fin nel dettaglio, no? E queste statuette della Madonna che si aprono e dentro c'è la Trinità. Insomma, sono cose un po' morbose, un po' decisamente morbose. E però questo gusto morboso c'è e pare questa gente del Medioevo non rendersi conto che quando il sacro finisce per essere guardato così, fino nel dettaglio, fino agli organi genitali, voglio dire, o riproduttivi della Madonna, forse si sta un po' esagerando e si sta passando dal sacro al profano, decisamente dal sacro al profano. Però questi discorsi venivano fatti perfino sugli altari, perfino sui pulpiti, quindi nel Medioevo questa demarcazione tra sacro e profano era molto labile. Si, diciamo così, cadeva dall'uno all'altro campo, si sfociava nell'uno e nell'altro campo molto facilmente e quindi il sacro diventava profano, il profano diventava sacro, non era affatto raro cadere in questi diversi settori, diciamo così. E su questi temi si conclude, diciamo, la prima parte di questo capitolo. Leggiamo adesso la seconda parte delle quattro parti in cui ho diviso il capitolo 12. Il passaggio dalla familiarità all'irriverenza avviene quando si applicano termini religiosi alle relazioni erotiche. L'argomento è stato trattato sopra. L'autore delle Queen's Joye dei mariage ha scelto il suo titolo per accordarsi con le gioie della Vergine. Il difensore del romano della Rose usò termini sacri per disegnare la partes corporis in inonestas et peccata immunda at que turpia. Nessun esempio di questa pericolosa associazione di religiosi con sentimenti amatori potrebbe essere più sorprendente della maronna attribuita a Fouquet, facente parte di un dittico che era già conservato a Melun e ora è in parte ad Anversa e in parte a Berlino. Anversa possiede la Madonna e a Berlino la tavola che rappresenta il donatore, Etienne Chevalier, tesoriere del re, insieme a Santo Stefano. Nel XVII secolo Denis Godefroy annotò una tradizione allora già antica secondo la quale la Madonna aveva le sembianze di Agnès Orel, l'amante reale, per la quale il cavaliere provava una passione che non si curava di nascondere. Comunque sia, la Madonna è infatti qui rappresentata secondo i canoni della moda contemporanea. C'è la fronte gonfia e ben rasata, i sieni rotondi e ben distanti tra loro, la vita alta e sottile. L'espressione bizzarra e impescrutabile del volto della Madonna, i chirubini rossi e blu che la circondano, tutto contribuisce a conferire a questo dipinto un'aria di empietà decadente, nonostante la figura coraggiosa del donatore. Godefroy osservò sulla grande cornice di veluto blu delle E fatte in perle, unite ai nodi d'amore di fili d'oro e d'argento. C'è un sapore di blasfema audacia nell'insieme, insuperato da qualsiasi artista del Rinascimento. L'irriverenza della pratica religiosa quotidiana era quasi illimitata. I coristi cantando la messa non si facevano scrupoli a cantare le parole dei canti profani che avevano fatto da tema alla composizione. Besemois Rougenet Si registra una sorprendente impudenza del padre dell'umanista Frisone D'Odolfo Agricola, che ricevette la notizia che la sua concubina aveva dato alla luce un figlio proprio il giorno in cui fu eletto abate. Oggi sono diventato padre due volte, che Dio ci benedica, disse. Alla fine del XIV secolo, la crescente irriverenza era considerata un male di data recente, il che in effetti è un fenomeno comune in tutti i tempi. Deschamps lo deplora nelle seguenti dighe. Si soleva stare nel tempo passato in chiesa devotamente, in ginocchio con umiltà, vicino all'altare con raccoglimento, a capo nudo rispettosamente, ma al giorno d'oggi come bestie si va all'altare sovente col cappuccio e cappello in testa. Nei giorni di festa di Cennicolo de Clemange poche persone vanno a messa. Non restano fino alla fine e si accontentano di toccare l'acqua santa, di inchinarci davanti alla Madonna o di baciare l'immagine di qualche santo. Se aspettano l'elevazione dell'ostia se ne vantano come se avessero conferito beneficio su Cristo. Al matutino e al vespro sono presenti solo il sacerdote e il suo assistente. Il signorotto del villaggio fa aspettare il prete per iniziare la messa, finché lui e sua moglie non si sono alzati e vestiti. Le feste più sacre, anche la notte di Natale, dice Gerson, si trascorrono in dissolutezza, giocando a carte, imprecando e bestemmiano. Quando il popolo viene ammonito, invoca l'esempio della nobiltà e dei clero, che si comportano allo stesso modo impunemente. Allo stesso modo, dice Clemange, le veglie sono tenute con canti e balli lascivi, anche in chiesa. I sacerdoti danno l'esempio ad Adini mentre guardano. Si può dire che i moralisti dipingono le cose con colori troppo cupi, ma nei conti di Strasburgo troviamo un dono annuo di 1100 litri di vino concesso dal concilio a coloro che vegliavano in preghiera in chiesa durante la notte di Sant'Adolfo. Di origine il certosino scrisse un trattato, de modo agenti processiones, su richiesta di un magistrato che gli chiese come si potesse porre rimedio alla dissolutezza a cui dava origine all'annuale processione, in cui veniva portata una reliquia molto venerata. «Come possiamo porre fine a tutto questo?» chiede il magistrato. «Stai certo che il consiglio comunale non si lascerà persuadere facilmente ad abolirlo, perché la processione porta grandi profitti alla città, a causa di tutta la gente che deve essere nutrita e alloggiata. Inoltre la consuetudine vuole che sia così». «Aimè sì!» sospira Dionigi. «Si sa troppo bene come le processioni siano disonorate da ribalderia, scherno e bevute». Un'immagine molto vivida di questo male si trova nella descrizione di Chastelland, del degrado in cui era caduta la processione dei cittadini di Ghand, con il santuario di Saint-Lévin a Houten. In precedenza, dice, i notabili avevano l'abitudine di portare il santo corpo con grande e profonda solennità e riverenza. Al momento c'è solo una folla di rossi e di ragazzi di cattivo carattere. Lo portano cantando e urlando con centomila scherzi e tutti sono ubriachi. Sono armati e commettono molte offese dove passano, come se fossero lasciati liberi e sciolti. Quel giorno sembra che tutto sia loro consegnato con il pretesto del corpo che portano. Abbiamo già accennato quanto disturbo è stato causato durante le funzioni religiose da persone che gareggiavano tra loro in cortesia. L'usanza di fare della messa luogo d'appuntamento da parte di giovani uomini e giovani donne era così universale che solo i moralisti ne erano scandalizzati. La virtuosa Christine de Pisan fa dire a un innamorato in tutta semplicità, se vado sovente in chiesa è solo per vedere la mia bella, fresca come rosa novella. La chiesa subì profanazioni più gravi dei piccoli servizi amorosi di un giovane che offriva la sua bella la Pax o si inginocchiava al suo fianco. Secondo il predicatore Menot, le prostitute avevano la sfrontatezza di venire lì in cerca di clienti. Gerson racconta che anche nelle chiese e nei giorni di festa venivano vendute immagini oscene, tanquam idola belfegor, che corrompevano i giovani mentre le prediche erano inefficaci per rimediare a questo male. Quanto ai pellegrinaggi, moralisti e satirici sono concordi. Le persone spesso dicono «pour fol plaisance». Il chevalier della Tour Landry li classifica ingenuamente con piaceri profani e intitola uno dei suoi capitoli di coloro che amano andare alle giostre e ai pellegrinaggi. Nei giorni di festa, esclama Nicolà de Clemange, la gente va a visitare chiese lontane, non tanto per riscattare un pegno di pellegrinaggio, quanto per abbandonarsi al piacere. I pellegrinaggi sono occasioni di ogni tipo di dissolutezza. Vi si trovano sempre delle mezzane. La gente va per scopi amorosi. È un incidente comune anche nelle canzoie de mariage. La giovane sposa, desiderosa di cambiare aria, faceva credere al marito che il bambino era malato, perché non aveva ancora adempiuto al voto di pellegrinaggio fatto durante il parto. Il matrimonio di Carlo VI con Isabella di Baviera fu preceduto da un pellegrinaggio. Non sorprende che i seri seguaci della devozia moderna richiamino l'utilità dei pellegrinaggi in questione. Chi va spesso in pellegrinaggio, dice Thomas a Kempis, raramente diventa santo. Uno dei suoi amici, Federico Riello, scrisse un trattato speciale, con ira peregrinantes. Gli eccessi e gli abusi derivanti da un'estrema familiarità con le cose sante, nonché l'insolente mescolanza del piacere con la religione, sono generalmente caratteristici di una fede incrollabile di una cultura profondamente religiosa. Le stesse persone che nella loro vita quotidiana seguono meccanicamente la routine di un tipo di culto piuttosto degradato, saranno capaci di elevarsi improvvisamente alla parola ardente di un monoco predicatore a vette di emozione religiosa senza pari. Anche lo stupido peccato della bestemmia ha le sue radici in una fede profonda. è una sorta di atto di fede perverso, che afferma l'onnipresenza di Dio e il suo intervento nelle più piccole preoccupazioni. Solo l'idea di usare davvero il cielo conferisce alla bestemmia il suo fascino peccaminoso. Non appena un giuramento perde il suo carattere di invocazione a Dio, l'abitudine di giurare cambia natura e diventa mera grossolanità. Alla fine del Medioevo la bestemmia è ancora una sorta di ardito diversivo che appartiene alla nobiltà. Che cosa, dice nobile al contedino in un trattato di Gerson? Tu dai la tua anima al diavolo? Neghi Dio senza essere nobile? Deschamps da parte sua nota che l'abitudine di imprecare tende a scendere alle persone di basso rango. Non sei miserabile che non dica io rinnego Dio e sua madre. La gente si diverte a coniare giuramenti nuovi e ingegnosi, dice Gerson. Chi eccella in quest'arte impia è onorato come un maestro. Deschamps ci dice che tutta la Francia giurò prima dopo il Guascone e l'inglese, poi dopo il Bretone e infine dopo il Borgognone. Compose in successione due ballate composte da tutti i giuramenti a loro invoga messe assieme e finirono con una frase pia. Il giuramento Borgognone era il peggiore di tutti. Era Gerenie Dio, nego Dio, che è stato adolcito in Gerenie de Bott, stivali. I burgundi avevano fama di essere abominevoli bestemmiatori. Per il resto, dice Gerson, tutta la Francia, con tutta la sua cristianità, soffriva più di ogni altro paese degli effetti di questo orribile peccato, che causava pestilenza, guerra e carestia. Anche i monaci erano colpevoli di blandi imprecazioni. Gerson ed Egli invitano espressamente l'autorità a combattere il male, rinnovando dovunque le rigide norme ma imponendo pene leggere e realmente esigibili. E un reggio decreto del 1397, infatti, ristabilì gli antichi decreti del 1269 e 1347, ma purtroppo rinnovò anche le antiche pene del taglio delle labbra e del taglio della lingua, che testimoniavano, è vero, un santo orrore della bestemmia, ma che non era possibile far rispettare. A margine del registro contenente l'ordinanza, qualcuno ha annotato, attualmente nel 1411, tutti questi giuramenti sono in uso generale in tutto il regno, senza essere puniti. Gerson, con la sua lunga esperienza di confessore, conosceva molto bene la natura psicologica del peccato di blasfemia. Da un lato, dice, ci sono gli abituali bestemmiatori, i quali, pur colpevoli, non sono spergiuri perché non è loro intenzione prestare giuramento. Dall'altra troviamo giovani di natura pura e semplice, che sono irresistibilmente tentati di bestemmiare e di negare Dio. Il loro caso ci ricorda quello di John Bunyan, la cui malattia assunse la forma di una propensione a pronunciare bestemmie e soprattutto a rinunciare alla sua parte nei benefici della redenzione. Gerson consiglia a questi giovani di dedicarsi meno alla contemplazione di Dio e dei santi, poiché mancano della necessaria forza mentale. In questa seconda parte del capitolo che abbiamo visto oggi, sulla quale poi concludiamo perché vedete il minutaggio inizia a essere già importante, Huizinga si concentra su, di nuovo, il sacro che diventa profano ma i livelli più bassi forse di questa profanità perché si arriva agli aspetti anche sessuali, proprio erotici, dice lui giustamente. Ad esempio cita questo quadro che vi ho anche mostrato a schermo, che è un quadro La Madonna di Melun di Fouquet, molto bello, molto caratteristico, viene anche studiato, si trova anche nel libro ogni tanto medievali, che è un quadro in cui la Madonna non sembra la Madonna, non sembra aver niente a che fare con la Madonna, è una donna alla moda, forse addirittura il ritratto dell'amante, del committente, eccetera, ma in ogni caso una donna alla moda, con i segni rotondi e distanziati, con la fronte larga, non senta niente la Madonna in pratica. Nelle fattezze della Madonna si specchia una bella donna dell'epoca, di cui si vuole esaltare proprio la bellezza profana, la bellezza sensuale, la bellezza corporea, cosa che è molto distante effettivamente dal soggetto religioso. Anzi, dice proprio Wissinga, questo pare un quadro che trasuda blasfemia in ogni immagine, in ogni dettaglio e questo effettivamente colpisce. Io mi ricordo aver visto questo quadro tra l'altro con i miei studenti in gita e effettivamente colpisce pensare che nel 300 o nel 400 ci fossero rappresentazioni di questo tipo, ma effettivamente Wissinga ci fa notare come non solo le rappresentazioni, ma tutta la vita sacra del 300 o del 400 fosse una vita dove l'erotico si mescolava al sacro. Vi parla ad esempio molto di questi pellegrinaggi. Ecco, i pellegrinaggi sono occasioni anche per copulare di fatto, per far sesso, eccetera. Gli innamorati si incontrano in chiesa, vanno in chiesa e lo dicono solo per incontrare l'innamorata e l'innamorato, si fanno bandi lascivi e addirittura a un certo punto le prostitute vanno in chiesa a cercare i clienti e in chiesa ci scambia immagini erotiche, quindi è proprio davvero un mercato del sesso che si fa anche all'interno di luoghi più sacri e i preti predicano dagli altari, fan fatica a farsi ascoltare quando c'è la prostituta che gira tra i banchi e che cerca clienti. A noi questo può suscitare scandalo, un senso anche di depulsione, ma nel Medioevo non era così sentito ugualmente scandaloso perché nel Medioevo era quasi la normalità. Certo c'era qualche polemista che polemizzava ma era abbastanza diffuso questo eccesso. E l'ultimo esempio che fa di questa tendenza riguarda proprio la bestemmia. La bestemmia che pare da quello che ci racconta ma anche dei giuramenti che venivano fatti, vi ha citato il giuramento dei Borgognoni che era quello forse più pesante, erano bestemmiatori, nel senso che si rinnegava a Dio in questi giuramenti e quindi la bestemmia era molto diffusa. E però, dice Huizinga, la bestemmia è anche una prova di fede perché la bestemmia ha senso solo quando si ha una grande fede, nel senso che si vede Dio dappertutto e lo si vuole negare, ci si vuole scontare con un Dio che si sente molto presente in un certo senso. Quindi certo è un'offesa a Dio, però è un'offesa che parte da questo senso anche profondo della religiosità. Una società irreligiosa che non sente dalla religione non avrebbe neppure bisogno di bestemmiare, invece la bestemmia nasce proprio perché la religione è così tanto presente. E però è chiaro che è profana, che è uno sfidare Dio ed è diffusa. C'erano, è vero, delle leggi, e le citano, che proibivano la bestemmia e le giuravano punizioni molto severe, tipo il taglio delle lingue, il taglio delle labbra, ma di fianco, nelle crone che di fianco a queste leggi c'è anche scritto attenzione, nessuno fa rispettare queste leggi perché queste bestemmie sono in uso in tutto il paese. Segno che, sì, ci si prova, ma non ci si riesce. Lo spirito di questo tarno medioevo è uno spirito che non si riesce ad originare, è uno spirito in cui, ripeto, sacro e profano si confondono, in cui non solo il sacro si abbassa ai livelli più bassi, più umidi della vita, ma anche più concreti della vita, come perfino la sessualità, come l'imprecazione, come la vita delle vettole, verrebbe da dire. Vi dice anche che la bestemmia originariamente era proprio dei nobili e poi viene fatta proprio anche delle classi più umili. Segno di un mondo molto diverso da quello che conosciamo noi, da quello che ci aspetteremo noi quando pensiamo al medioevo, che immaginiamo sempre così devoto, così irrispettoso, in realtà era molto, molto irrispettoso, o meglio, era devoto, ma questa devozione era talmente strana che poteva sembrare davvero blasfema in certi casi. Ecco, direi che per oggi possiamo fermarci qui perché siamo più o meno a metà del capitolo 12, che è un capitolo, vi ho detto, molto lungo e insomma se lo leggessimo oggi tutto intero non finiremmo più, quindi faremo una seconda puntata sempre su questo capitolo dedicato alla religione che si concretizza in immagini, ma per oggi basta. Vi ricordo come sempre che in descrizione trovate i titoletti, in modo da dividere il video, trovate anche i link agli altre puntate precedenti di questa serie e poi i link per comprare anche il libro se volete tenevolo in cartaceo, che è sempre utile averlo anche sotto mano. In più, vi ricordo anche che in descrizione trovate i modi per rimanere in contatto, cioè social network, newsletter settimanale gratuito in cui parliamo spesso anche di libri, film, video, di tutto di più e poi anche ovviamente ci sono i modi per sostenere il canale, cioè se vi piace quello che faccio e volete aiutarmi a farlo sempre meglio, ci sono modi per dare una mano dal punto di vista economico, piccole cose, piccole donazioni, c'è tutto in descrizione, il modo forse più efficace è l'abbonamento al canale youtube in cui con pochissimi euro al mese vi decidete voi quale taglia, ricevete in cambio dei vantaggi, guardate ci sono video in anteprima, dirette esclusive, canale telegram dedicato, dispense di filosofia e altro ancora. Ho detto tutto, ci vediamo presto per andare avanti con concludere questo capitolo 12 e andare avanti con la lettura dell'autunno del medioevo e poi con tante altre lezioni di storia e filosofia, educazione civica ogni tanto anche del book club storico filosofico. Ciao alla prossima! Ciao!